Io sono Luigi Zonca, questo è il campionato zonale di Dragoon, è stato bello, c'erano molte onde, però c'era anche vento, quindi siamo riusciti ad andare senza scuffiare e a vincere la regola. Sono Gabriele Usai, sono timoniere, spero che questo primo campionato zonale sia stato abbastanza bello, c'era molto vento, però magari un po' troppa onda, però comunque si riusciva ad andare abbastanza bene. Gli avvisari più temibili di questa regatta erano Alessandro Vargiù e Leonardo Pernice, che una regatta l'hanno vinta perché ho dato il male a un highline, anzi due. E per un momento, quando abbiamo fatto il secondo, abbiamo pensato che avessimo potuto arrivare il secondo in un primo e vincere il campionato zonale. È il mio terzo anno di Dragoon, penso di passare all'Hobby Cat l'anno prossimo, appena sarà possibile. Penso che qua l'U-Surfing Club ci sia una bella comunità di Obby Cat, quindi anche se magari non posso già fare delle regatte, posso comunque fare il criterium ogni sabato, quindi penso sia meglio rispetto al Dragoon.